Una macchina Direi che è tempo di cominciare questa serata, quindi prima abbiamo fatto un applausino ai nostri ospiti, adesso direi di farne uno un po' più grosso agli ospiti di questa sera che sono il giudice Libero Mancuso, caporedattore dell'Espresso Riccardo Bocca, e il Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage del 2 Agosto di Bologna, Paolo Bolognesi. Grazie mille. 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 Buonasera, questa sera presentiamo il libro di Riccardo Bocca, Tutto un'altra strage, e già il titolo è un po' particolare, Tutto un'altra strage è anche per fare un attimo da contraltare a tutte quelle cose che periodicamente vengono fuori per quanto riguarda la strage. Cioè la strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto dell'80, ha avuto una serie di processi, pensate che l'ultimo processo, l'ultima sentenza è avvenuta nell'aprile di quest'anno, sentenza di Cassazione che ha condannato il terzo esecutore materiale della strage, Luigi Savardini. Perciò una sequenza di indagini e processi che dura da 27 anni, e nel momento in cui è uscita la sentenza di Cassazione, è uscita anche tutto un cancan incredibile con una serie di ipotesi nuove di verità su questa strage. Allora, il fatto che siano usciti libri l'intervista al figlio di Sparti che dice mio padre dopo 5 anni che è morto ha detto sempre delle balle via di questo passo, la commissione Mitrochin l'anno scorso che aveva tirato fuori una nuova pista, tutto questo muoversi in una situazione che cerca di, non dico confutare gli atti e gli scritti del processo, ma cerca di inventare nuove piste, nuove ipotesi di lavoro e via di questo passo, può creare qualche perplessità, quantomeno sulle persone meno informate, per dire, ma lì, veramente, cosa è successo il 2 agosto dell'80 a Bologna, eccetera? Allora, questo libro, questo libro di Bocca, è un libro che percorre il discorso della strage sulla base dei documenti processuali. E con, diciamo così, il tipico piglio giornalistico, cioè una, come posso dire, una scrittura facile da leggere, quantomeno, ti analizza i vari documenti che inchiodano i due personaggi autori della strage. Ma c'è di più, vedete, adesso questo anche per quelli che sono un po' più attenti, ma anche per quelli come voi che colgono l'occasione di una serata come questa per approfondire, per cercare di capire maggiormente la cosa, no? Noi ci troviamo anche in una situazione in cui due imputati, parliamo di Mambo e Fioravanti, hanno sempre detto, noi abbiamo gli elementi per riaprire il processo, cioè prima del 95, quando ci fu la sentenza di Cassazione, dicevano, noi abbiamo gli elementi per riaprire il processo perché ci sono nuove prove, nuove argomentazioni che sicuramente ci permettono di riaprire e di ribaltare qualsiasi tipo di sentenza che ci accusi. Il 95 è passato, le cosiddette prove che avevano, sarebbe stata la querela fatta a Sparti a suo tempo, è fallita miseramente perché era un ulteriore depistaggio messo a punto dai servizi segreti, e sono passati dal 95 ad oggi 12 anni e non hanno neanche provato di riaprire il processo, cioè mentre fanno tutto un cancan mediatico da questo punto di vista, non esce un documento che possa, come posso dire, dare un movente per riaprire questo processo. Ma c'è di più, questi due imputati hanno avuto una fortuna incredibile che è stata quella che, finito il loro processo nel 95, si è aperto il processo per quanto riguarda il cosiddetto terzo, anzi non il cosiddetto, il terzo imputato per la strage, che sarebbe Luigi Ciavardini. Siccome era minorenne, il suo processo è iniziato quando è finito il processo degli altri due. Ora, questo è una, diciamo così, è stato ripercorso il processo vecchio, più elementi nuovi che sono stati inseriti all'interno, e si sono fatti quattro gradi di giudizio fino ad arrivare alla Cassazione. In tutti questi gradi di giudizio, praticamente un nuovo processo, sono stati riinterrogati Mambo e Fioravanti. E cosa hanno detto nel momento in cui sono stati interrogati? Non è che abbiano portato elementi nuovi, elementi a loro discapito, assolutamente, confermiamo tutto quanto detto nel primo grado, eccetera, eccetera. Basta, cinque minuti e sono andati via. Ecco, questo dà l'idea della scarsa, come posso dire, non scarsa, della nulla possibilità di riaprire veramente con argomentazioni serie questo processo. Allora, ognuno di noi si deve fare un'altra domanda, io credo. Come può, dopo 27 anni, essere così di attualità un processo come quello della strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto del 1980? Sono passati la bellezza di 27 anni e ancora oggi insistono con piste nuove, cose varie. Cioè, tenete presente che la commissione Mitrocchini, sto parlando di una commissione bicamerale fatta dal Parlamento italiano, perciò un organismo istituzionale fatto dai deputati e senatori, eccetera, ha tirato fuori tutta una serie di piste nuove. Questa commissione ha cercato di riscrivere completamente la storia d'Italia per quanto riguarda il delitto Moro, l'attentato al Papa, la strage di Bologna, eccetera. Tutti falliti miseramente, tutti questi tentativi di riscrivere in maniera molto avventurosa la storia d'Italia. E quando siamo arrivati a Bologna, vi dico solo un punto della questione, ma uno di questi punti era l'esplosione della strada, l'esplosione della bomba. Allora, l'esplosione, per cercare di mettere e dare la colpa a Carlos, al gruppo Carlos, eccetera, cioè cercare di affibbiare comunque a sinistra la cosiddetta esplosione, si era fatto questo discorso. Quel giorno a Bologna passava un carico di esplosivi che accidentalmente è esploso. Questo esplosivo era del gruppo Carlos che è esploso accidentalmente. Allora, ci sono le perizie balistiche che parlano di questo esplosivo, le perizie balistiche non è che le facciamo noi, cioè c'è la parte, la controparte, eccetera, e addirittura sono state analizzate addirittura in Germania, eccetera. E l'esplosivo era un esplosivo a innesto chimico che non poteva assolutamente esplodere se non c'era l'inesco. Perciò voglio dire, già anche questo, ma se di più le persone attente, se si leggono i giornali dell'81-82, c'è un'intervista a Gelli dell'81 che dice, lì c'era un carico di esplosivo, così, un carico, c'è un carico, poi stiamo parlando di una valigetta o di un sacco con 20-25 kg di esplosivo, non immaginate, però no. e uno con un sigaro l'ha buttato lì e è saltato per aria tutto. Ecco, questa era la tesi di Gelli. Vedi caso, 27 anni dopo la ritirano fuori, la commissione Mitrochi, non ci voleva la commissione Mitrochi. Ma ripeto, ma per quale motivo dopo tanto si suscita ancora tanta polemica in tutto questo? Voi nell'ambito di questo discorso dovete vedere non solamente i due imputati, i due terroristi che hanno causato questo fatto, cioè Mambor Fioravanti e adesso anche Ciavardini, dovete invece pensare un attimo a quelli che sono stati i depistatori, coloro che hanno fatto di tutto perché non si arrivasse a questi tre, che sono il gran maestro della loggia massonica P2, Pazienza e Musumeci, il generale Musumeci e il colonnello Belmonte, che erano ai vertici del Sismi, il servizio segreto militare, cioè, tranne Pazienza, tutti gli altri iscritti alla loggia massonica P2. Allora, c'è da dire, c'è l'attualità, l'attualità fa parte di questa strage, che è uscita 27 anni fa, ma c'è ancora un'attualità politica eccezionale, che è data dalla loggia massonica P2, è data dal programma che questa loggia massonica P2 si era dato, che era quello del piano di rinascita democratica, piano di rinascita democratica, che era l'ispirazione, o almeno leggendolo, sembra proprio che sia l'ispirazione, di quello che è stato il programma di governo di Berlusconi, eccetera, i cinque anni che hanno preceduto questo governo. Questo deve far riflettere di un'attualità e di una insistenza metodica nel voler in un qualche modo scazionare questi personaggi, ma non con delle argomentazioni, come posso dire, documentali, eccetera, provate per poter veramente fare un'opera di informazione, un'opera anche processuale per far andare avanti queste cose. Tutt'altro, è un'opera fondamentalmente mediatica. Prima del libro di Bocca è uscito il libro di Andrea Colombo, che è di una pochezza incredibile per quello che riguarda soprattutto i documenti. Questo si avventura in ipotesi sulla strategia della tensione, eccetera, che sono da Fantomax, non sono da una cosa seria, storica o roba del genere. Per quanto riguarda tutti i rapporti di Mambro, Fioravanti, con Sparti, cioè quello che il 4 agosto, Sparti denuncia il fatto che il 4 agosto si sono presentati questi due chiedendo dei documenti e viene anche minacciato, viene minacciato il suo figlio perché i documenti devono essere presentati assolutamente in fretta e via di questo passo, in maniera estremamente celere perché ne hanno bisogno, via di questo passo. Lui liquida questo discorso con... Ci sono fantomatici discorsi che parlano di un incontro che non c'è mai stato, punto. Beh, come punto, c'è addirittura un verbale di interrogatorio della Mambro che dice che il 4 agosto ero lì a chiedere i documenti a Sparti. Cioè addirittura la stessa imputata smentisse questo libro, tanto per essere molto chiari. E questo vuol dire un verbale sottoscritto firmato dalla Mambro. E questo deve far riflettere quantomeno, no? Ecco, ci sono tutta una serie di aspetti che vengono fuori dal percorso che fa questo individuo che sono più per confondere che per cercare di aprire le menti a determinati discorsi. Il giudice amato che viene ucciso il 23 giugno del 1980 viene ucciso non perché sapeva troppo ma perché sapeva troppo poco. Cioè, voglio dire, ragazzi, adesso ci vuole anche un minimo di serietà nel momento in cui andiamo a affrontare questi argomenti. Cioè il giudice amato, che era quello che coordinava le indagini sulle trame nere, sull'uomini di destra, l'unico, tra l'altro, lasciato da solo proprio perché faceva quella cosa lì, addirittura il 10 giugno del 1980 in un'audizione al Consiglio Superiore della Magistratura denuncia la grande pericolosità esplosiva dei gruppi dei Nardi destra, eccetera, e 13 giorni dopo viene ucciso. Cioè, tanto per indagare... E ci sono le audizioni che sono lì, a testimonianza di questo... Cioè, sono documenti che sono lì, pronti a... E questo è un documento del 10 giugno del 1980. Non so se mi spiego. La bellezza di un mese e mezzo prima della strage. Del resto della strage, il grande problema di tutti questi personaggi è che quando cercano di affibbiare la pista libica o altre piste varie, eccetera, si dimentichano sempre di ricordare che la strage di Bologna viene annunciata un mese e mezzo, due, prima, nelle carceri, che ci sono dei detenuti che parlano espressamente di un fatto eclatante, di un attentato eclatante, che deve succedere nei primi giorni di agosto. Più che altro c'è da dire che i servizi segreti, nonostante tutti questi allarmi, non hanno fatto niente per impedire la strage. Questo è il punto. Però, il fatto che si poteva sapere prima che la strage poteva avvenire, o stava per avvenire, questo è un fatto che, come dire, scombussola i piani di chi adesso vuole cambiare le carte in tavola. Perché se una cosa avviene casualmente il 2 agosto, è un discorso, ma se era preparata prima, tutte queste ipotesi di lavoro che mettono in piedi non stanno più in piedi. Ecco, allora, voglio dire, questo libro fa chiarezza e soprattutto fa chiarezza con un vero discorso di giornalismo o di indagine, nel senso che documentato sui fatti parla di fatti, non di opinioni, di valutazioni, così, no, sui fatti. E ti analizza i fatti. A volte la lettura, siccome ci sono molte note, può essere un po' meno veloce, proprio perché ci sono questi richiami, però questo è un libro che si basa sui fatti. Io mi invito ad acquistarlo, visto che c'è qui la possibilità, anche perché è un documento, questi sono, io li chiamo, libri senza tempo, nel senso che non è che, siccome è uscito a luglio di quest'anno, non so, adesso siamo a novembre e allora è già vecchio. No, siccome parla di un fatto che è successo, tra l'altro, 27 anni fa, i processi sono conclusi, proprio quest'anno, e anche l'aspetto della conclusione di questo processo inserita all'interno di questo libro, diventa un libro senza tempo, un libro documento interessante, anche non solo per quelli che sono qui seduti, ma anche per quelli che eventualmente sono a casa o che in un futuro abbiano voglia di leggere e approfondire l'argomento della strage di 2 agosto. Io vi ringrazio tanto e sono a vostra disposizione per eventuali domande che dovessero arrivare. Grazie. Grazie Paolo. Come procediamo? Riccardo vuoi parlare del tuo libro? Allora, intanto buonasera a tutti. Io vorrei intanto dire una cosa molto semplice. Io credo che le prefazioni siano nocive ai libri, cioè i libri devono iniziare quando uno li apre, dopodiché se ne parla, e infatti in questo libro non c'è una prefazione, però è una scelta precisa, perché non si voleva dare un'interpretazione iniziale dei fatti, ma si voleva che il lettore si facesse un'opinione leggendolo. Però a voi ve l'ha beccata una prefazione da parte mia, perché invece è dovuta. E riguarda proprio voi, perché io personalmente non partecipo mai a presentazioni del mio libro, perché credo che siano inutili. Cioè, cercare di fare delle presentazioni per vendere dei libri è sciocco. Per far questo sono andato in televisione. Quello è il modo in cui onestamente si presentano i libri, e si ha la possibilità di parlare a molte persone contemporaneamente, dando soddisfazione anche alla casa editrice. Gli incontri come questi, invece, non sono presentazioni di libri. Io vi ringrazio di questa occasione, perché siete non un pubblico, ma persone che si ritrovano abitualmente in questo posto, e mi sento ospite di una cosa viva, e non di una noiosissima conferenza stampa per soddisfare l'ego dell'autore, che se la cava in altro modo, molto serenamente. Quindi, grazie, in partenza. Questo, come premessa. La seconda cosa è la seguente. Mi sembra corretto raccontarvi come è nato questo libro. La Rizzoli a un certo punto mi ha chiesto se volevo fare un libro con loro. Io di mestiere sono un caporedattore dell'Espresso, mi occupo delle inchieste e dei servizi speciali. Quindi mi occupo di attualità, normalmente, delle varie porcherie che succedono nel nostro paese. E da molto tempo avevo in mente questo libro. Ho parlato del tema della strage di Bologna, ho detto, però, mi sembra corretto, prima di avviare questo lavoro, sentire l'associazione dei familiari delle vittime. Ho chiamato Paolo Bolognesi, qui presente, e gli ho fatto il seguente discorso. Ho detto, guardi, noi non ci conosciamo. Io non voglio fare il libro dell'associazione delle vittime. Io, come ho spiegato anche all'editore che pubblicherà questo libro, non so neanche cosa scriverò in questo libro. Perché non ne so niente. Io ho letto quello che ho letto sui giornali e mi sembra che questa cosa di Mambo e Fioravanti sia un po' appesa così da quello che leggo. non la capisco. Per cui, se voi pretendete una tesi a questo libro, un qualcosa che sia già un approccio chiaro ai contenuti, non sono in grado di farlo. Dall'altra parte ho trovato delle persone che mi hanno detto, ci fidiamo di quello che tu fai, e poi vedremo. Chiamo Bolognesi e gli dico esattamente la stessa cosa. Bolognesi, io non sono della vostra associazione, non è il mio mestiere né la mia partecipazione emotiva quella di tutelare gli interessi delle vittime. Posso partecipare al lutto, alla tragedia che c'è stata, ma faccio il giornalista e se trovassi delle indicazioni differenti da quelle che sono legate alla vostra posizione, le scriverei senza problemi. Quello che vi chiedo eventualmente è la possibilità di accedere ai materiali che non riesco a trovare. Bolognesi, forse complice anche, non ricordo, una bottiglia di vino che ci siamo fatti, dei piccoli escamotaggi giornalistici che adesso non vanno rivelati, a parte gli scherzi, ha detto, guarda, sappiamo che cosa fai sull'espresso, hai la nostra disponibilità, buon lavoro. Ora, questa non è un... io non l'ho scritta all'inizio del libro proprio perché, come dire, non possa essere mal interpretata questo. Questo è un libro nato da uno spirito di volontà di approfondimento e devo dire, è rarissimo che qualcuno metta a disposizione il proprio tempo, le proprie conoscenze, i propri materiali senza chiedere nulla in cambio. Quindi mi sembra corretto dire grazie anche a Paolo Bolognesi, dopodiché andiamo ai contenuti di questa faccenda. Siccome i protagonisti di questa vicenda sono due, i morti, i morti innocenti, chiunque siano i mandanti e chiunque siano gli esecutori, e dall'altra parte, chi è stato condannato come esecutore di questa strage. Cioè nel momento in cui è iniziato questo lavoro, Mambro e Fioravanti in seguito Ciavardini. Io ho incontrato, credo, tutte le parti in commedia. Praticamente tutte. E la prima preoccupazione che ho avuta è stata quella, oltre a quello di chiarire la mia posizione con i familiari delle vittime, quella di tutelare Mambro e Fioravanti. Può sembrare paradossale, ma non lo è. Cioè credo che innamorarsi delle tesi o innamorarsi della convinzione di colpevolezza sia il peggior errore che uno può commettere. Personalmente avevo totale indifferenza, non dal punto di vista emotivo, ma dal punto di vista giornalistico, nei confronti di Mambro e Fioravanti. E proprio per questo li ho chiamati e ci siamo visti spiegando che cosa stavo facendo. Ho detto che visto che loro molte volte avevano dichiarato che il loro dovere era quello di essere disponibili nei confronti di chi cercava la cosiddetta verità o chi comunque approcciava il tema della strage Bologna, io cercavo la loro disponibilità. La risposta di Fioravanti e Mambro è stata che loro erano contenti che io facessi questo libro perché ci voleva un libro che spiegasse perché loro erano innocenti, ma ci voleva però un passo ulteriore, cioè che un giornalista si prendesse la responsabilità a prescindere da loro di dire che era un processo che non stava in piedi quello che era stato fatto a loro, che era tutta una farsa. E io ho detto, scusatemi, qui purtroppo c'è un problema, avete frainteso? Qui la questione è che io non sono affatto convinto di come vi siete comportati e proprio per questo credo che sia importante che voi partecipiate a questo libro. Io ho trovato dalle risultanze, dall'inchiesta che ho fatto, una serie di incongruenze, una serie di falsità che mi sembra che voi abbiate detto, una serie di cose che non quadrano e quindi credo che sia una bella operazione di trasparenza da parte vostra quella di parlarne, di affrontarne e verrete riportati fedelmente nel libro. La cosa è finita molto male, nel senso che improvvisamente questa cordialità iniziale è diventata gelo, improvvisamente Fioravanti, guardandomi in faccia in modo molto secco, mi ha detto, beh ma tu hai parlato con Cossiga, hai sentito cosa ha detto dell'innocenza? Dico, guarda, a me Cossiga ha detto che tu sei un coglione, è quello che mi ha detto Cossiga, ha detto che Francesca Mambro, che era di fianco a lui, è la persona che realmente ha avuto la testa in tutta questa storia e che in effetti è convinto che voi siate innocenti perché gliel'ha detto la Braghetti, cioè la persona che ha ucciso Bachelet con di fianco in quel momento la giovane assistente Rosi Bindi all'università, quindi la fonte di Francesco Cossiga, come riporto nel libro, era una terrorista assassina che è stata compagna, amica, in carcere della Mambro. Io poi nell'intervista con Cossiga che chiude e che è abbastanza sconvolgente che chiude il libro non ho riportato il giudizio che vi ho detto adesso su Fioravanti per rispetto a Fioravanti stesso. Non credo che anche gli eccessi di un ex Presidente della Repubblica debbano in qualche modo giustificare gli insulti a chi che sia. Questo non è un libro di insulti, questo non è un libro colpevolista, è un libro dove un giornalista che di mestiere fa le inchieste sull'attualità ha cercato di scoprire i fatti in questo momento, questa sera arrivo proprio da ieri sera dalla Calabria dove mi sto occupando di vicende legate ai disastri che stanno succedendo e dove paradossalmente si ritrovano gli stessi germi che si trovano ancora al 2 agosto. La massoneria, i poteri forti, la violenza nei confronti dei magistrati, la indisponibilità nel cercare la verità, la politica che copre e che cancella quella che è la società civile. questo marcio che purtroppo continua a massacrarci e che non la smette di farci sentire in un paese che non ci merita come cittadini. Io lo dico la verità, voi siete tutte persone che domani andranno a lavorare, a studiare, a fare i loro lavori. La disponibilità che questo paese ha ad ascoltare queste storie, che sono storie complesse, che riguardano anni fa, rappresentano un paese che ha voglia di dignità, che ha voglia di informazione, che ha voglia di rispetto, un rispetto che purtroppo non esiste, che in questo momento non c'è. E non c'è anche all'interno di questa storia. All'interno della vicenda della strage di Bologna i principali impuntati sono stati i giudici. Cioè in Italia, al di là della vicenda di Peteano, l'attentato a Peteano con la morte dei carabinieri, al di là della vicenda della questura di Via Fatebene Fratelli a Milano, dove fu beccato sul posto irresponsabile, non esiste una condanna per una strage. Non esiste. L'unica che esiste è quella della strage di Bologna. L'accusa principale che viene fatta ai magistrati italiani è quella di non quagliare, di costruire dei castelli che poi non portano a niente. Qui abbiamo cinque gradi di giudizio. Ora, io personalmente non ho né simpatia né antipatia nei confronti dei magistrati che hanno gestito questo processo. Però credo, e credevo prima di iniziare a fare questo lavoro, che fosse il mio dovere quello di leggere che cosa hanno fatto questi magistrati, prima di andare ad ascoltare tutti i protagonisti. E quindi, devo dirvi per l'entusiasmo di mia moglie e dei miei figli, mi sono letto centinaia di migliaia di pagine di questo processo che potevate scrivere in un italiano più fluente, ma che comunque, a parte gli scherzi, è di una intensità e di una violenza, devo dire, straordinaria, perché riporta non solo la realtà della strage di Bologna. Questo si capisce leggendo queste carte. Cioè, qui, il problema della strage di Bologna e il problema per cui ancora oggi siamo qui dopo cinque gradi di giudizio a parlarne, è perché il problema non è solo la strage, è il contesto storico e sociale che avveniva e che c'era in quel momento. Parliamo dei primissimi anni Ottanta, all'inizio, quindi parliamo di una fase molto strana, non parliamo dei primi anni 70 fino a 74, quando la destra eversiva cerca, in modo esplicito il golpe, la spallata, è passato a quel momento. Siamo in un momento in cui, guarda caso, si sta parlando di terrorismo rosso. C'è stato il sequestro Moro nel 78, parliamo di realtà dove il terrorismo nero è qualche cosa di difficilmente individuabile. Per questo, come diceva prima Bolognesi, è stato ucciso e viene ucciso il giudice Amato, perché capisce che ciò che sta avvenendo non è spontaneismo, come adesso ci viene raccontato, non c'è qualche cosa che qualche simpatico stupidotto sta mettendo in piedi perché in quel momento è aggressivo, magari tira un po' di coca, no, no, qui stiamo parlando di una realtà in cui ci sono documenti che vengono sequestrati, uno addirittura il 2 agosto proprio, all'interno dei quali si dice dobbiamo creare il terrore, il terrore, non devono più viaggiare gli aerei, i treni, cioè questo sta succedendo. Appena prima della strage un importante militare, Segetro, un capitano, va a Genova perché ha saputo che sta per succedere qualcosa di terribile e va dalla moglie di una persona che aveva avuto dei rapporti diretti con l'estrema destra che era stato lui stesso e gli dice attenzione mi aiuta a capire cosa sta succedendo, qui sta per succedere un macello, lei non lo fa, non se la sente, ha paura, la paura come dire vent'anni dopo venticinque può sembrare un sentimento vigliacco, io la paura la vedo molto spesso oggi, la vedo su me stesso, cioè la paura è qualche cosa che ha a che fare quando vieni minacciato direttamente, quando la morte è qualche cosa di possibile e quindi merita per certi versi anche rispetto, anche se purtroppo la paura è un ostacolo terribile alla verità, è un dato di fatto, e quindi questa signora non se la sente di aiutarlo, salvo poi chiamare dopo questo capitano e dire avessi saputo l'avrei aiutata, e cosa succede nelle carcere in quel momento, Luigi Vettore Presiglio, una persona, un detenuto comune che però ha avuto trascorsi nella destra, a un certo punto va da un magistrato stimatissimo, Giovanni Tamburino, e dice attenzione, sta per succedere qualcosa di terribile, qualche cosa di inimmaginabile, lui dice, questo me lo racconta personalmente, dice, beh più del sequestro moro, non è possibile, e dice, non potevo immaginare che cosa sarebbe successo, e parla di un attentato, e parla di una cosa terribile che stava per succedere, stiamo fotografando una realtà che quindi non è legata Mambro, Fioravanti, non stiamo parlando di singoli, stiamo parlando di un mondo, anche la destra spontaneista, come sempre poi nei miei movimenti, ovviamente non tutti sanno tutto, non a caso nella vicenda della strage di Bologna, non tutta la destra, la estrema destra, anche a seguire, appoggia e condivide quello che hanno fatto secondo le sentenze Fioravanti e Mambro, anzi, pensano che questa scelta folle, in più, come dire, aggravata dal fatto che crolla tutta una parte delle pensiline della stazione di Bologna che probabilmente non era neanche prevista, quindi un attentato scelerato, folle, terribile, ma ancora peggio negli esiti, e pensano che ciò sia stato fatto per creare una reazione, ovvero, in un momento di incertezza, di instabilità, creare un fronte compatto eversivo che facesse la scelta dell'eversione in modo netto, che quindi non fossero dei ragazzi che la sera andavano a dormire dalla mano dal papà, ma che si decidevano a fare una scelta di campo per accelerare quel processo eversivo, ma anche di grande reazione. Ricordiamo, quello mi sembra molto importante, che quando arrivano delle informative su quello che sta succedendo nell'area della destra e arrivano a Roma, al SISD, queste cose si fermano, non si vuole andare a cercare. Ricordiamo che i vertici del sismi vengono condannati, stiamo parlando di sentenze, per depistaggio. Lo Stato italiano con i suoi servizi segreti ha depistato. Ora, è vero, come si dice spesso, che non vengono trovati i mandanti, ma attenzione, ci vogliamo dire in modo netto e in modo chiaro che i servizi segreti di Stato non depistano per depistare, sono di Stato i servizi, sono deviati, benissimo, ma questa deviazione, come la raccontiamo, che cos'è questa deviazione, chi fa deviare? E raccontiamo cosa succede dal punto di vista dello Stato, cosa dice Francesco Cossiga il 4 agosto appena dopo la strage in Senato, dice che è una strage fascista, dopodiché dirà il contrario, dirà che non è vero anni e anni dopo, dirà che era stato influenzato, era stato malinformato, ragazzi stiamo parlando dei vertici dello Stato, se qualunque cittadino italiano avesse osato dire frasi di questo tipo senza averne una fondata conoscenza, avrebbe avuto cause civili, cause penali, avrebbe pagato pesantemente, si paga quando si fa informazione, allora come oggi, non è un gioco, non si scherza su queste cose, si sta parlando, è incredibile dirlo e viene anche un po' di vergogna a dirlo, della storia d'Italia, questo è uno snodo fondamentale della storia d'Italia, noi abbiamo anche come dire, qui un testimone, è un protagonista di questa vicenda, Libero Mancuso che poi racconterà, Libero Mancuso che è stato accusato a parte di pedofilia, tutto il resto te l'hanno detto, credo, perché un magistrato che è arrivato in quel clima a sentenza, la sentenza può essere criticabile, può essere in parte ideologica, si può parlare di un aspetto ideologico, ideologico non vuol dire, non è un insulto, in una sentenza ci devono essere i fatti poi, vogliamo parlare della prova regina, non esiste, non c'è una prova regina in questa vicenda, ci sono dei fatti che vanno sottoposti in modo chiaro, ma l'importante è che non ci sia la disinformazione, che non ci siano i fatti falsi, che non ci siano le bugie, che non ci siano libri dove si dicono cose non vere, che si dica una volta per tutti in modo chiaro, come ho fatto molte volte pubblicamente in televisione e in altri posti o in dibattiti pubblici, che Fioravanti e Mambro mentono ripetutamente sull'alibi, che non si mettono d'accordo neanche tra di loro, che Fioravanti per quattro anni nasconde l'esigenza negando di Ciavardini con loro il 2 agosto, ma io dico, arrivano a dire che non mi ricordo dei fatti di quel giorno perché per noi era un giorno qualunque, ma non è stato un giorno qualunque per nessuno, io non so se vuoi successo, io ho 43 anni, ero un ragazzo, ho tanti amici e quando ho iniziato a fare questo libro molti hanno detto ma sai che io quel 2 agosto ero sulla spiaggia, mi sono ricordato, tutti noi ci ricordiamo di quel giorno, perché è stato un giorno allucinante, mi ha raccontato una persona che lavorava io lavoravo all'europeo prima, che quel giorno era in spiaggia, non so se a Riccione o comunque sulla riviera Rovagnola, a un certo punto è stato dato l'annuncio dal megafono della spiaggia che c'era stata la strage di Bologna e i chilometri di spiaggia si sono zittiti, questo è quello che siamo noi, siamo delle persone che magari fanno anche schifo ciascuno noi un piccolino, piccola parte nella nostra vita, magari non siamo meravigliosi, magari oltre sbagliamo, magari cerchiamo di fare del nostro meglio, ma sui grandi temi della società civile del rispetto, della verità, credo che veramente sia importante essere uniti e di pretendere una verità che esiste nei fatti e che se viene messa in discussione deve essere messa in discussione per realtà concrete, precise, l'invito che io ho fatto quando è uscito questo libro pubblico è di essere messo a confronto con chiunque pubblicamente con tutti coloro che facevano parte del comitato e se fossero innocenti, cioè il comitato che è nato con persone molte di sinistra e non solo a difesa di Mambro e Fioravanti, avete difeso pubblicamente Mambro e Fioravanti, io non sono colpevolista, io ho riportato dei fatti se i fatti che ho riportato in questo libro sono veri allora voi avete un problema parliamone pubblicamente smentitemi nessuno nessuno ha parlato e ha scritto una riga di tutte queste persone su un solo giornale questo libro è diventato un best seller ha iniziato a vendere senza che nessuno di queste persone abbia detto una parola l'unica voce che ha ricevuto l'ho ricevuta pochi giorni fa da Francesca Mambro che ha querelato non il libro ma ha querelato l'anticipazione del libro fatta sul mio giornale l'Espresso una scelta che si commenta da sola ne sono estremamente felice e spero che si vada a processo perché riapriremo questa simpatica pagina della nostra realtà sui fatti e su quello che è la verità non cancellabile cioè quello che è successo io spero come dire che questo venga percepito anche per quello che è l'approccio che ho cercato di dare a questa cosa come un tema di attualità parliamo di persone legate alle persone che per anni adesso hanno governato l'Italia che sono in alleanza nazionale parliamo di persone della sinistra che hanno dato la libertà a questa gente parliamo di Mambro e Fioravanti che camminano e come raccontano mi hanno raccontato lo stesso vengono fermate con strette di mano e congratulazioni assassini e ferati che hanno più ergassoli oltre la strage sulle loro spalle io credo che sia importante ribadire ovunque che assassini assassini e assassini restano ed è importante che chi uccide per di più per ragioni così terribili e in modo così ambiguo per giunta in modo così vigliacco in modo così ferato vengano indicati senza disprezzo perché il disprezzo non merita nessuno ma con la considerazione che meritano persone di questo tipo fra cinque anni Giusva Fioravanti potrebbe essere candidato in Parlamento tiratevole le conseguenze tutti i dati applausi a be questa te la do per certa questa qua è un iposito e te la faccio sicura abbiamo poi Libero Mancuso il giudice che ha seguito per tanti anni tutte le vicende processuali di questa strage Libero Mancuso Buonasera, non è la prima volta che sono qui e spero di ritornare anche perché conosco tante di quelle storie e si mangia anche bene, possiamo intrattenerci piacevolmente. Per quanto riguarda questa vicenda, certo è una vicenda terribile che ha occupato per diversi anni la mia esistenza e che mi ha esposto a una serie di accuse, insulti che ho dovuto difendere in ogni sede, uscendone però sempre vittorioso. Devo dire quello che prima ci diceva Riccardo Bocca, un pezzo della storia d'Italia, cioè non è possibile leggere questo libro senza legarlo ad una vicenda, alla nostra vicenda nazionale, repubblicana, come è nata il continuismo con il vecchio regime fascista, l'occupazione dei gangli decisivi, dei nostri apparati di sicurezza consegnati nelle mani di vecchi esponenti del partito fascista, dell'ovra, dei servizi fascisti, uno Stato che da una parte fondava una repubblica e una democrazia e dall'altra contemporaneamente tramava con il vecchio regime fascista, di cui si è sempre servito per bloccare la storia di questo Paese, la vicenda democratica di questo Paese. E vedete, quando viene fuori che i vertici del servizio segreto militare, quello che dovrebbe tutelare dai pericoli del terrorismo internazionale, il nostro Paese collude, copre autori di crimini così efferati, è qualcosa che bisogna pur dire per capire tutto questo, perché sin dall'inizio, sin dal giorno dopo della strage del 2 agosto, l'Icio Gelli e i servizi segreti si mettono all'opera per deviare le indagini, per allontanare la verità dai giudici. E ci sono riusciti per tanti anni e continuano oggi a tramare la medesima vicenda, perché quella verità è scomoda. Quella verità è scomoda perché Fioravanti e Mambro sono in grado di ricattare ancora oggi, chi ancora conosce tutti i retroscena di questa strage. E badate che recentemente Fioravanti ha affermato che lui sarebbe in grado di dare delle indicazioni sui autori della strage, cosa che ha sempre negato di conoscere. E allora quando il giudice istruttore di Bologna, subito dopo la strage, viene caricato sotto falso nome su un aereo militare e portato in Libano alla ricerca degli autori, da parte di un generale dei servizi segreti, iscritto alla P2, lo portano a un campo cristiano maronita, a un campo musulmano, quando gli consegnano un testimone fantasioso come Elio Ciolini, che racconta delle storie incredibili, che però affascinano questo giudice, che addirittura consegna danaro a questa fonte perché raccontasse queste bugie, ritardando la verità, quando sei mesi dopo la strage di Bologna, uomini dei servizi segreti, vertici dei servizi segreti, collocano su un treno, il treno Taranto-Milano, una valigia carica di esplosivo della stessa composizione di quella usata qualche mese prima a Bologna. per creare tanti morti e dentro inseriscono anche due documenti di viaggio falsi e lo fanno trovare qui a Bologna, per portare i giudici lontano dalla verità, significa che i costoro sono pronti a tutto, sono disposti a tutto pur di nascondere la verità. E per questo sono stati condannati in via definitiva, vertici del nostro servizio segreto militare. E soltanto nel 1981, quando nel marzo dell'81, quando grazie ai giudici Colombo e Turone, si arriva all'archivio di Riccio Gelli, sapremo che quei vertici dello Stato, tutti i vertici dello Stato... Dalla polizia, i carabinieri, all'esercito, alla marina, all'aviazione, erano tutti iscritti alla loggia di Riccio Gelli. Noi capiamo che c'è qualcosa, c'è un pugno forte sulla nostra democrazia che non deve crescere. Ed è l'atlantismo, l'asservimento al nostro alleato statunitense, che attraverso l'iscrizione alla loggia P2 controlla i nostri servizi segreti, che sono il vero punto di riferimento per governare il potere in Italia, attraverso il ricatto dei politici, il ricatto dell'economia, il ricatto della stampa e così via. E sapremo anche che c'è un piano che appartiene a Riccio Gelli, che è quello di occupare dall'interno tutti i vertici dello Stato per condizionare la storia del nostro Paese. Scopriremo questo documento, che è un documento che ha una filosofia ben precisa. Qualunque soggetto è possibile comprarlo. E così si prevede di comprare la democrazia cristiana, si prevede di comprare il Partito Socialista, si prevede di comprare un altro partito nel caso in cui la democrazia cristiana dovesse resistere. E così si dice soldi per separare la CGL dagli altri organizzazioni sindacali. E così i giudici devono essere neutralizzati. E così la televisione di Stato deve essere umiliata in nome della libertà di antenna. E sappiamo chi c'è dietro tutto questo. Lo sapremo quando nel 94 un certo Berlusconi inventerà un partito, scenderà in campo e vincerà le elezioni. Come è stato possibile tutto questo, noi ce lo dobbiamo chiedere e credo che gran parte delle cose che sono scritte in questo libro devono essere lette alla luce di quanto è avvenuto prima del 1980 e dopo il 1980 nel nostro Paese. E quando noi accerteremo che per arrivare alla Giole di Licio Gelli viene pedinato un medico massone siciliano, mafioso, Micheli Crimi, il quale tiene nascosto in una base controllata da vertici della mafia, Michele Sindona, uomo prediletto dall'economia, dalla finanza vaticana, uomo prediletto da Andreotti, uomo prediletto dall'economia nazionale, arrestato negli Stati Uniti, badate, comincia a collaborare con la dogana americana a patto, che gli Stati Uniti fanno così, di tenere riservata una sola, un solo argomento che è il colpo di Stato del 1974 in Italia che doveva ripetere quello avvenuto in Grecia con danaro proveniente, uomini provenienti anche dall'Italia, il colpo di Stato che aveva portato i colonnelli al potere. Questo Michele Sindona, uomo di primo piano, che finirà poi ammazzato nel nostro carcere, non sarà nel primo, ricordiamo Gaspari Pisciotta, nell'ultimo, ricordiamo Calvi, banchiere che succede, banchiere piduista che succede a Sindona, anche lui bancarottiere e anche lui assassinato, anche lui uomo delle finanze vaticane e della mafia assassinato a Londra. Un quadro desolante, un quadro terrificante, dentro il quale si colloca la strage del 2 agosto e si collocano le alleanze che allora vengono fuori in una maniera straordinariamente visibile e che proseguono ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo a che fare con vicende di questo genere. Ecco, io credo che raccontare queste cose, far leggere questo libro, guardate, che è un'anomalia nella pubblicistica italiana, un'anomalia, perché hanno avuto successo, ancora oggi occupano le vetrine delle principali librerie nazionali, menzogne pubblicate da uomini che hanno sfidato la verità pur di servire una causa assolutamente quella della falsità e quella dell'oscuramento della verità. Ecco quanto dobbiamo a Riccardo Bocca. Io non immaginavo, non immaginavo, che qualcuno potesse mettersi al lavoro, come abbiamo lavorato per anni noi, e ricostruire tutta la vicenda di questi processi, processi terribili, difficilissimi, pieni di insidie, dove invece di processare gli imputati nel primo processo di appello, si sono processati magistrati, con dossier che venivano distribuiti a tutti i giudici della Corte d'Assise, dossier del Borghese, pensate, che era un organo finanziato dai nostri servizi da sempre. E allora noi siamo qui tutti e ricordiamo queste cose e dobbiamo raccontarle, perché dobbiamo svelare che cosa c'è, i pericoli che ci sono ancora oggi qui da noi, nel nostro Paese, che sono terribili e tanti. Vedete? La democrazia è una cosa che la si conquista giorno per giorno. E noi dobbiamo essere sempre uniti e in tanti a difenderla, perché i diritti di ciascuno di noi vadano avanti e non vengano in qualche modo sconfitti. Grazie. Ragazzi, io ho sempre questo amaro compito di cominciare il dibattito dopo questi interventi che mi lasciano senza parole. Non perché non si sappiano queste cose, dire la verità un po' si sanno, ma sentirle dai protagonisti di queste vicende lasciano, secondo me, colpiscono molto di più. Insomma, d'altra parte è difficile vedere il libero mancuso in televisione. Lo vediamo fuori orario davanti a cento persone dire queste cose che sono delle assolute verità, secondo me. Però sono davanti ad un pubblico che purtroppo è una minimissima parte dell'opinione pubblica di questo Paese. Quindi fare tesoro di queste cose, secondo me, è una cosa particolarmente utile. Comunque, ci provo. E visto che Olcini, che Dio grazie, che è qua, che mi rompe tutte queste pause per intervenire, io gli do la parola. Ma chi è chi chiude la porta al segreto di Stato? Chi è chi chiude la porta? Ma è il governo o con i i giudizi? Gli avvocati? Se non si riesce con le buone a avere porte, se non è alle cattive, in maniera, le porte non vanno a prendere. perché bisogna dare la priorità ai bambini. Questo è più che sia. Se no, non è più che sia a fare i diritti. Le porte vanno a prendere con le cattive. No, vendiamo, pensiamo, vendiamo. No, si aprono le porte. La colpa deve essere scoperta. Anche se è la colpa della finessa. La colpa deve essere scoperta. Sono sicuro che Paolo su queste cose qua è d'accordo perché ho letto l'ultimo messaggio perché Paolo poi manda periodicamente delle e-mail non so se siete iscritti alle e-mail dell'associazione il 2 agosto ma fareste bene a farlo perché poi lui ovviamente interviene sempre sulle vicende e una delle ultime e-mail che ha mandato che poi mi auguro che tu commenterai è proprio un'e-mail incazzatissima rispetto alle promesse che hanno fatto gli ultimi politici che sono intervenuti alla commemorazione della strage del 2 agosto dovevano fatto delle promesse ben precise rispetto proprio al segreto di Stato e ad alcune norme insomma che avevano promesso di fare proprio per agevolare la verità insomma l'emergere della verità sulla strage del 2 agosto mi auguro che dopo tu dirai qualcosa Paolo ti so incazzato su questa cosa quindi è bene che tu la dica io sono qui perché volevo portare innanzitutto ai tre ospiti il saluto dell'associazione nazionale partigiani di Reggio Emilia nella persona del presidente notari e in modo particolare lo dico per Paolo Bolognesi insomma per confermare per ribadire appunto la vicinanza dell'AMPI all'associazione delle vittime della strage di Bologna noi siamo al vostro fianco dico noi perché sono un iscritto e vi chiedo e vi sorto sempre di mantenere viva questa memoria una memoria per la quale non bisogna retrocedere di un centimetro dico quindi siamo con voi continuiamo su questa strada che è molto importante e un evento come quello di questa sera grazie a Franco e grazie a Fuori Orario sono cose che devono continuare ad essere fatte grazie complimenti ancora beh l'AMPI è l'AMPI eh altri vogliono intervenire alzate la mano per cortesia così io giro Michele e vai io dico passi per Mambo che era incinta e quindi aveva il congedo per non restare in carcere con questa vicenda poi di Ciavardini voglio dire non potevano eh essere ricollegati e quindi rimesse in carcere o in medicina non so qualcosa del genere vanno in televisione a farli opinionisti insomma mi sembra ovvio altri ragazzi che vogliono intervenire se no facciamo fare un primo giro di risposte se avete qualcosa da dire ditelo subito se no abbiamo ne approfitto per salutare i ragazzi di Arco Iris TV che sono lì che stanno riprendendo questa cosa quindi ragazzi domani andate tutti in televisione se potete Adelmo Cervi mi chiede la parola io devo dire che in queste vicende mi sento parecchio coinvolto nel senso che ritengo come ha pagato la mia famiglia come quelli di Bologna come Milano come Brescia siano stragi che coinvolgono una massa di gente e che sono fatte dagli stessi non mi interessa sapere l'anno il minuto il secondo non mi interessa sentire neanche 3.000 avvocati o 4.000 avvocati perché per me la storia è abbastanza chiara queste stragi questi omicidi sono stati fatti da chi aveva certi chi aveva il potere e chi voleva continuare a dominare i fascisti erano allora i fascisti hanno ammazzato mio padre i miei zii i fascisti hanno ammazzato tutta questa gente a Bologna come nelle varie piazze degli anni 60 e 70 che abbiamo avuto quindi cercano di menare sappiamo benissimo c'è stata tutta la fase del terrorismo delle BR e cercano di impastare questo per poter salvare chi ha continuato a fare queste criminalità all'interno del paese quindi io credo che sia anche in certo punto bisogno di dire ai varie panze e alla varia gente e ai vespa che vogliono fare il discorso di vedere di fare la riconciliazione che c'è solo da fare una riconciliazione in questo mondo qua condannare il fascismo in tutti i tempi e in tutto il mondo dove è sempre successo e continua ad essere questa è la riconciliazione quando dovranno ammettere cos'è stato il fascismo il nazismo le stragi le cose inumane che sono commesse quando loro saranno disposti a condannare questo e a dire chi era Mussolini che era il fascismo e il nazismo forse potremmo cominciare a discutere anche questa gente fino a quando questi ci vorranno mettere sullo stesso piano noi diciamo no e continueremo a dire di no continuamente saluto le accompagno perché mi sento che la nostra è una casa comune e su questo dobbiamo continuare a lottare per quello che riguarda il discorso della situazione di Mambro e Fioravanti allora la Mambro ha avuto la sospensione della pena perché era incinta perché ha avuto una bambina la cosa che non si spiega è che dopo sei anni che ha avuto la bambina sia ancora sia ancora in sospensione della pena cosa che normalmente non succede ecco normalmente ecco ma questo non è una cosa normale quell'altro invece c'è un fatto ben più grave lui ha avuto tre anni fa la liberazione condizionale cosa che per legge non poteva assolutamente averla perché uno dei requisiti principali della liberazione condizionale è la consapevolezza dei disastri che questo ha combinato dei dolori eccetera che ha combinato lui dice che la strada non l'ha commessa lui è stato condannato con sentenza passata in giudicato non è molto consapevole uno che dica così dei disastri che ha fatto non so se mi spiego pertanto il giudice da questo punto di vista hanno fatto i giudici hanno fatto un'operazione i giudici dell'ufficio di sorveglianza hanno fatto un'operazione che travalica la legge insomma tanto per intenderci è una cosa illegale che hanno fatto gli unici a reclamare sono stati i familiari delle vittime ma come voi sapete i familiari delle vittime sono i soliti vendicativi e perciò niente fine Bocca prima vi ha detto fra cinque anni no non è fra cinque anni fra due anni Fioravanti potrà diventare sicuramente parlamentare e così avremo che il criminale più efferato della storia d'Italia maschio perché dopo c'è sua moglie che arriverà anche lei diventerà deputata e potrà legiferare il nome del popolo italiano anche per voi tanto per essere così chiaro come adesso fa Delia come ha fatto a suo tempo Toni Negri e via di questo passo perché questo è un paese fatto così credo che anche questo ci sia al di là di essere vittima o meno quanto meno che ci sia il dovere di interrogarsi perché le cose vanno in questo modo tenete conto che tra l'altro Delia nonostante era uno dei capi di prima linea è stato condannato eccetera a venticinque anni adesso è diventato deputato ma la Camera dei deputati avendo un pezzo da 90 di questo tipo cosa ha fatto? gli ha dato anche un incarico istituzionale l'ha fatto segretario della Camera perciò tutti questi grandi parlamentari che quando si presentano dicono siamo con voi ci ricordiamo conosciamo sappiamo no non sono una mazza non gliene frega assolutamente niente e questo cioè quello è un esempio di un comportamento che è assolutamente come posso dire poco corretto e poco civile da parte dei parlamentari noi recentemente ci siamo incavolati molto non tanto per il discorso del segreto di Stato lo tiro fuori dopo ma c'è questo nel 2004 è stata fatta una legge per risarcire cioè per dare un risarcimento alle vittime del terrorismo nel 2004 una legge è votata all'unanimità siamo nel 2007 e questa legge non funziona nel modo più assoluto per farla funzionare è un calvario incredibile i familiari delle vittime sono dei questuanti cioè c'è una legge votata all'unanimità del Parlamento che per farla funzionare è una cosa altro che che salta d'ostacoli una cosa incredibile allora abbiamo convenuto con questo governo una metodologia per sbloccare la legge e adeguarla e mettere a posto una volta per tutte prima del 2 agosto siccome cioè l'anno scorso hanno nominato un commissario straordinario pensate una legge votata all'unanimità dello Stato che ci vuole un commissario straordinario per farla funzionare già questo dà un po' un'idea che c'è qualcosa che tocca in giro allora fanno questo commissario straordinario e con il commissario straordinario è stato nominato l'anno scorso a settembre da settembre a gennaio di quest'anno facciamo un lavoro veramente micidiale nel senso che ogni tre giorni eravamo a Roma per elaborare tutta la cosa e a febbraio consegniamo tutto questo papiro alla presidenza del consiglio la presidenza esamina il tutto e cestina la cosa allora ci incazziamo il minimo che uno può fare succede una cosa e siccome si avvicinava il 2 agosto e poterla diventare una cosa delicata cosa fanno? ci incontrano e definiamo un percorso definiamo un percorso sancito bene perfetto finito il 2 agosto il percorso è già saltato allora grave scorrettezza del governo della presidenza del consiglio non della presidenza del consiglio che ha costretto i familiari delle vittime a fare conferenze a visare il mondo eccetera eccetera per fare funzionare una legge del 2004 che non funziona e tenete presente una legge del 2004 io vi sto parlando della strage di Bologna che è successa 24 anni prima 2004 ma questa è una legge che addirittura dovrebbe sanare cioè mettere in un qualche modo a posto stragi e assassini politici del 1961 non so se mi spiego cioè il ritardo già dello Stato per arrivare a San Argus ecco perciò noi ci siamo incavolati da matti e stiamo lavorando eccetera siamo noi che facciamo presentare gli emendamenti per mettere a posto sto benedetta cosa una cosa incredibile e c'è da dire c'è da dire che questo governo si è comportato in una maniera veramente squallida veramente veramente molto squallida e bisogna dirlo io vengo accusato cioè l'associazione 2 Agosto è un'associazione di sinistra che non è assolutamente vero tanto per intenderci però perché noi diciamo le cose come stanno sia con quelli di sinistra che con quelli di destra chi se ne frega se uno si comporta male anzi anzi per il mio modo di vedere c'è da incazzarsi di più se sono di sinistra che se sono di destra detto tra di noi ecco e questo è è una cosa da tenere presente poi e questo è il capitolo ultimo cioè questo dovete anche tenere presente che costringe a muoversi ad andare a Roma costantemente giù diciamo è una cosa che non è mica non è mica non è mica non è una cosa seria con tutti cioè ma stiamo parlando di Prodi non stiamo parlando dell'ultimo venuto hai capito eh non so se non l'avete capito eh eh e questo è uno questo è uno per quello che riguarda l'altro capitolo il capitolo prima è venuto fuori il discorso riconciliazione perdono eccetera perché qui in questo paese c'è una cosa molto particolare quando tu chiedi che la giustizia sia applicata sei un giustizialista vendicativo giustizialista e via di questo passo noi ci troviamo con dei personaggi che hanno sette ergastoli non uno sette ergastoli lui ha 135 anni in più dei sette ergastoli da scontare per tutta un'altra serie di delitti vari lei ha 83 anni eh di altri delitti eccetera eccetera sono liberi e tra l'altro l'ho detto fra due anni questo qui diventa molto probabilmente deputato eccetera eccetera come del resto ormai è la moda qui ormai se uno vuol fare la carriera politica eh se non ha una qualche fedina penale un po' un po' un po' barcollante che è non è mica nessuno cioè nessuno e allora eh eh ci parla di riconciliazione pacificazione perdono e via di questo passo cioè eh probabilmente è un discorso che vi ho già fatto ma insisto sul fatto quando noi parliamo di perdono perdono è un fatto umano personale eh cattolico anche cioè religioso eccetera è una cosa intima è una cosa propria una cosa per sé quando si comincia a parlare di perdono e c'è la televisione e c'è tutta sta roba qua eh incrina molto l'aspetto eh particolare del perdono di questo anche voglio dire eh strumento di riappacificazione interna personale eccetera e soprattutto il perdono non deve mai assolutamente andare a inficiare quello che è il percorso legislativo delle leggi il percorso giudiziario eccetera assolutamente poi c'è l'aspetto della pacificazione o riconciliazione questo è un fatto nazionale è un fatto di politica nazionale che lo si può percorrere solo dopo che sapremo la verità fino in fondo se no è un'altra puttanata fatta nei confronti dei familiari delle vittime delle istituzioni io dico a questo punto perché fare un discorso di pacificazione di riconciliazione senza la verità è una schifezza come vedete anche qui a me sono delle cose che poi ti rompono le scatole al governo di sinistra precedente la prima cosa che si guardava di fare non era la verità ma mandiamo a casa tutti i terroristi chiudiamo gli anni di piombo e chiudiamo chiudiamo con amnistie indulti eccetera ma queste sono puttanate gli anni di piombo si chiudono solo con la verità se no non si chiude niente se questo è un percorso che rimarrà costantemente una ferita all'interno di questo paese perché non c'è la verità in queste cose altrimenti signori ci stiamo prendendo in giro ecco almeno come familiari delle vittime noi diciamo ci state prendendo in giro questo deve essere una cosa chiara scusate prendiamo il caso Moro tanto per intenderci ogni anniversario viene fuori un pezzo di verità in più che va a dire che quello che ci hanno raccontato i terroristi i servizi segreti le istituzioni al 90% sono delle cazzate insomma sono delle cose che mancano di cose anche profonde serie eccetera e allora tutto questo deve far meditare allora o ce ne freghiamo di quello che è passato diciamo lì scordiamo c'è passato chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato fine come dico la Napoli no? è buona lì no però non è così siamo seri o la verità o questi percorsi non sanno da fare questo è il nostro parere l'altro aspetto è del segreto di Stato allora voi sapete tutta la diatriba del segreto di Stato nel 1984 abbiamo presentato una legge di iniziativa popolare per l'abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo 1984 2007 nel luglio giugno luglio di quest'anno è stata approvata una legge all'unanimità del Parlamento per la trasformazione modificazione e riassetto dei servizi segreti tra cui c'era anche il capitolo del segreto di Stato e finalmente il segreto di Stato nei delitti di strage è stato abolito è stato tolto allora anche questo tanto per intendere non so se voi vi ricordate tutte le polemiche periodiche su questo capitolo ma come c'è una legge che non permette eccetera eccetera di mettere il segreto di Stato state chiedendo una cosa che c'è già e via di questo passo bene nel 2007 hanno messo a posto questa cosa tanto per intenderci e hanno fatto un discorso sui servizi segreti che ha delle aree di importanza indubbiamente almeno noi diamo un parere che è anche positivo però manca di due aspetti due aspetti che secondo noi sono determinanti per fare una cosa corretta uno è un archivio o archivio su tutte le cose che vengono fatte dai servizi segreti in modo che un domani si possa controllare quello che hanno fatto un archivio non tenuto dai servizi segreti ma da un'entità esterna tanto per intenderci come fanno in altri paesi l'altro è inserire all'interno dell'ordinamento non ordinamento insomma delle pene il reato di depistaggio il reato di depistaggio è un reato che non esiste in Italia specialmente per gli uomini che hanno giurato fedeltà alla Repubblica questo reato è un reato che deve esserci e deve essere sanzionato pesantissimamente ecco tanto per intenderci perché tra l'altro è stato quello che abbiamo visto per la strada di Bologna la causa di tutti questi ritardi di queste incredibili situazioni sulla strada di Bologna non c'è mai stato messo il segreto di Stato ma proprio perché manca l'archivio e perché manca la conoscenza di tutte le cose che ha fatto il servizio segreto dietro questo 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 processo questo procedimento non sappiamo neanche le puttanate che eventualmente sono state fatte e le coperture che sono state date dai servizi segreti a veramente ai mandanti e a roba del genere per poter fare delle richieste precise per sapere determinate cose allora quando è venuta fuori questa legge che dà un massimo di 30 anni come periodo perché sono 15 anni allungabili di altri 15 che arrivano a 30 anni come periodo di mantenimento del segreto di Stato abbiamo detto beh se guardiamo indietro non so piazza della loggia l'italicus piazza fontana possiamo cominciare a mettere sulla piazza tutto quello che hanno i servizi segreti no? rendiamoli pubblici queste cose qua a me Bolognesi Paolo se rendono pubblichi tutti questi documenti non mi creano dei patemi a me forse li creano a qualcun altro e forse se veramente mettessero direi sulla piazza tutti i documenti relativi a queste stragi forse sarebbe la volta buona che che cambiamo un po' di classe politica in Italia forse grazie Paolo io volevo sollecitare due interventi uno di Riccardo e uno del giudice Mancuso perché prima tu accennavi come caporedattore dell'Espresso stai seguendo la vicenda in Calabria noi accennavi ad alcune analogie visto che io sono assolutamente convinto che la strage di Bologna e tutto l'iter processuale sia di un'attualità estrema ti volevo chiedere quali sono le analogie che vedi in tutta questa vicenda calabrese e l'altra domanda che volevo fare a Libero Mancuso era come giudicava ovviamente il comportamento tenuto dai magistrati dei magistrati Valentino Forleo in questa vicenda risponderò in modo sintetico anche per permettere a tutti poi di andare a nanna un'ora decente ma è molto semplice alla base delle ambiguità sulla vicenda della strage di Bologna c'è la non accettazione delle verità cioè paradossalmente anche di fronte a verità appurate ovvero 4 agosto 1980 Mambro e Fioravanti vanno a chiedere documenti falsi a Massimo Sparti e Fioravanti dice hai visto che botto c'è stato a Bologna Francesca è una donna coraggiosa eccetera eccetera cioè un dato di fatto raccontato da un testimone diretto e confermato dalla Mambro che comunque ovviamente non dice le bianchesti per noi dice le bianchesti per altre persone in realtà poi la cosa viene smentita eccetera eccetera anche questo viene negato i fatti vengono negati nella vicenda di Reggio Calabria parlo di fatti noti esiste un'intercettazione nota resa in parte pubblica che riguarda il ministro della giustizia Mastella e riguarda Antonio Saladino principale indagato della vicenda Why Not nella quale i due si chiamano Clemè Tony e ti presento poi il mio amico imprenditore e ti presento cioè una telefonata di una familiarità straordinaria dove si parla di incontri che oggettivamente intanto sottolineano una confidenza tra le parti e poi parlano di terze persone che vivono nel mondo dell'imprenditoria cioè nonostante il ministro di giustizia dice io non mi sono mai avuto relazioni con questa persona non c'entrano affari di questo tipo tutte cose che sono nei fatti c'è un'intercettazione e sono cose che vanno approfondite ciò non significa affatto la colpevolezza di qualcuno in questo caso attenzione fatto sta che nel momento in cui c'è la strage di Bologna i magistrati vengono massacrati a prescindere dal loro lavoro sulla strage fanno la volontà del partito comunista cioè frasi apodittiche frasi legate e mai dimostrate in nessuna sede mai dimostrate in nessuna sede perché se c'è qualcuno che doveva cercare la verità e non l'ha fatto è stata la sinistra in questa vicenda purtroppo e quindi è surreale tutto ciò dall'altra parte troviamo che il magistrato che sta indagando sui fatti che riguardano un ministro che lo indaga viene spostato viene richiesto immediatamente gli vengono tolte le carte nel weekend nel weekend andando al segretario e chiedendogli le carte racconto vicenda personale che raccontavo anche prima nel momento in cui scrivo un articolo molto recentemente sul mio giornale in cui racconto che il ministro Mastella firma una convenzione che si chiama Calabria Sicura per assumere 60 persone nuove a rafforzare i principali uffici giudiziari nei punti caldi dell'andrangheta chi si occupa di questa vicenda è una società che si chiama Worknet chi è il responsabile della sede dove vengono le selezioni in Calabria una persona arrestata per mafia pochi mesi prima che compare nella realtà nell'indagine Why Not di The Magistris chi è l'altra persona che compare nelle selezioni nell'altra sede della Mezzia Terne una signora che si chiama Nadia Di Donna amica di Antonio Saladino indagato a Why Not nel momento in cui esce l'articolo il ministro della giustizia Mastella prende il mio articolo fa una conferenza stampa il giorno dopo anno zero con Santoro con tutte le televisioni presenti e chiede le mie dimissioni pubblicamente l'ordine dei giornalisti non ha espresso una parola di solidarietà questa è l'Italia questo sta succedendo in Italia e tu mi chiedi quali sono le similitudini questo è questo è questo è questa è l'Italia del 1980 e questa è l'Italia del 2007 cosa succedeva cosa succede quando si cerca una verità che ti arrivano duemila querele duemila rogne ti devi difendere in mille sedi avveniva allora avviene adesso non importa se poi vinci o perdi questo è un dettaglio devi dedicare ore giorni stress interrogatori da parte dei magistrati un contributo umano psicologico fondamentale senza una ragione concreta io quando sento lo dico sinceramente quando sento la giustizia italiana intasata soltanto di di cause che mi sono state fatte personalmente cioè di querele civile penali io non sono non ne ho mai persa una una decine per cui un magistrato deve verificare deve indagare poi arriva il GIP che dice no non c'è niente ma questo soltanto personalmente soltanto personalmente cause da cento miliardi di vecchie lire queste si chiamano pressioni dei poteri forti come si chiamano di cosa stiamo parlando stiamo parlando di un paese in cui il potere si tramanda non solo da famiglia a famiglia si tramanda da cultura a cultura qui sono cambiate prima seconda terza repubblica non è cambiata la cultura del rappresentare il popolo italiano questo è il problema e soprattutto non è ancora accettato il ruolo di quella che è la libera informazione io credo che una persona diffamata abbia tutto il diritto di querelare un giornalista o chiunque infanghi la sua persona il problema è che qui ti querelano i mafiosi che qui ti querelano persone che poi vengono rinviate a giudizio io mi sono occupato di rifiuti pericolosi dell'affondamento di navi delle carrette del mare e di rifiuti radioattivi ho pubblicato sul mio giornale ci abbiamo dedicato la copertina il racconto fatto alla direzione nazionale antimafia di un boss dell'Andrangheta un ex boss collaboratore di giustizia che ha raccontato come all'Enea smaltivano in Somalia e in Basilicata rifiuti radioattivi sono stato querelato dal direttore dell'Enea che è stato rinviato a giudizio 15 giorni fa insieme ad altri 9 direttori dell'Enea questa è l'Italia questo è il continuo attacco io credo che sia corretto che il giornalista debba avere il dovere di rispettare sempre e comunque l'altra parte io ho rispetto per Francesco Amambro e per Valerio Fioravanti come giornalista come cittadino italiano sono scandalizzato come cittadino italiano sono profondamente amareggiato e sono anche amareggiato da coloro che li fermano per strada e sono analizzato da sono scandalizzato dall'ex ministro Martelli che li ospita in una trasmissione senza spiegare con chiarezza che cosa hanno fatto queste persone qui purtroppo diceva prima riconciliazione la riconciliazione passa attraverso la cultura che trasmettiamo ai nostri figli alla conoscenza dei fatti alla chiarezza dell'informazione alla rete internet fatta con serietà questo è questo è un discorso di generazioni di trasmissione di incontri in luoghi pubblici non c'è un tessuto pubblico è molto difficile per questo che prima dicevo non era manierismo non era una captazione benevolenza il fatto che alle 11.10 di una giornata durante la settimana siamo qua a parlarne siate consapevoli è uno sforzo questo è un sacrificio anche non è facile e lo sforzo di questo libro è stato quello di raccontare in un modo chiaro qualcosa di molto difficile per questo ci sono tante note per dare la chance alla persona di leggerle o non leggerle ma comunque di far passare l'informazione questo è il problema la televisione è un mezzo straordinario dove tu vai puoi dire mille cose ma non ha la possibilità dell'approfondimento reale quando ci riesce straordinaria il report è una trasmissione straordinaria cioè fuori dall'ordinario proprio perché riesce a raccontare nel dettaglio cose molto complesse proprio per questo molte persone non la guardano e proprio per questo molto la guardano non capiscono nulla cioè è difficile l'informazione non è semplice è fatta di dettagli è fatta di sfumature è fatta di ambiguità è fatta di malizie questi sono credo gli inghippi che Mancuso e gli altri magistrati hanno trovato all'interno di questo non è un'autostrada è un sentiero di montagna è una curva continua all'interno della quale non c'è mai la verità assoluta nel mio libro ho raccontato la testimonianza di una persona che racconta di aver riconosciuto Francesca Mambro quella mattina i miei colleghi giornalisti le televisioni mi hanno chiesto ma allora questo in qualche modo può cambiare ci sono stati cinque gradi di giudizio a prescindere da questo questo è un elemento giornalistico ma non si riscrivono le sentenze senza elementi validi questa dovrebbe essere una cosa tutela nostra di tutti cioè chi viene condannato se la becca la condanna e ha poi un altro grado e poi ne ha un altro ancora qui ce ne sono stati cinque ora io credo che il garantismo sia un esercizio corretto ma credo contemporaneamente anche che la società debba avere il coraggio e la politica soprattutto di affrontare quelle che sono delle verità purate e questa è la verità che non si vuole accettare è per questo che destra e sinistra hanno una fretta maledetta di cancellare quella stagione qui non si parla di ragazzi che hanno sbagliato qui si parla di assassini è tutta un'altra storia e perché è titolato questo libro tutta un'altra strage perché paradossalmente ormai la strage vera non è quella che ho raccontato io nei fatti è tutta un'altra è raccontata di questi giovani che con uno slancio meraviglioso dalla parte sbagliata però erano ragazzi hanno ucciso a sangue freddo cioè hanno massacrato sono stati condannati per una strage e ciò nonostante si dichiarano vittime hanno uno spazio straordinario da parte dei media molto spesso senza contraddittorio il contraddittorio in questo paese è iniziato nel momento in cui una persona come me che non è schierata in questa storia ha potuto essere presentata in televisione senza poter essere tacciata di essere o dell'associazione oppure legata ai magistrati perché era evidente e dimostrabile che non era vero questo è stato il grande problema di questo libro che non potevo essere tacciato di essere comunista di essere vetero no all'epoca ero un ragazzo cioè non c'è un legame fra me e questa strage c'è la voglia di cercare dei fatti e ancora vi ringrazio per lo sforzo di questa sera grazie me la ricordo mi ricordo la domanda che è una domanda insidiosa e siccome risponderò in maniera molto breve torno per un momento ai problemi del segreto di Stato perché il primo segreto di Stato è avvenuto quando i crimini nazifascisti venivano chiusi in un armadio nel 1946 per essere sepolti perché non venissero mai alla luce le malefatte le razzie gli stermini che avevano compiuto Sant'Anna di Stazema Marzabotto i nazifascisti nel nostro paese atti di crudeltà inenarrabili tutti ricostruiti in una recente sentenza perché questo armadio della vergogna creato nel 1946 fu poi girato verso il muro nel 1966 in un tribunale militare ad opera di un magistrato militare ebbene soltanto dopo 30 anni questo archivio è venuto alla luce e ci sono stati processi e si è arrivati alle condanne persino ma questo è il primo dei grandi segreti politico militari che ha fatto in modo di cambiare la storia del nostro paese ecco di questo per esempio un personaggio come il direttore dell'Espresso ecco il direttore dell'Espresso non ha mai parlato e che tenta di cambiare di stravolgere la storia della vice direttore della resistenza e della liberazione per cambiare i connotati della nostra Repubblica che è nata dalla resistenza e dalla lotta di liberazione e che ci ha dato proprio sull'onda di tutto questo ci ha dato una carta fondamentale dei diritti che è la più bella che esista nel mondo e che deve essere letta studiata e approfondita a partire dalle scuole elementari medie e così via perché noi soltanto così riusciremo ad avere un paese civile voglio raccontare solo l'ultima di questi segreti politico-militari quello che è stato opposto ai magistrati di Milano in occasione del sequestro di Abu Omar un personaggio che viveva nel nostro paese che probabilmente faceva parte di una cellula musulmana eversiva islamica e che i magistrati di Milano tentavano di arrestare o comunque di intercettare contemporaneamente forze di polizia italiana e americana lo sequestravano lo trasportavano in un altro paese lo sottoponevano a tortura lo consegnavano agli egiziani cioè allo stesso paese da cui era fuggito ottenendo l'asilo politico nel nostro paese e veniva invece restituito a quello che era il paese dei suoi aguzzini ebbene su questo i giudici di Milano chiedono l'assistenza giudiziaria agli americani per poterlo fare perché devono hanno accertato i nomi di uomini della CIA che hanno partecipato a tutto questo assieme a uomini dei nostri servizi segreti e dunque si devono rivolgere al ministero della giustizia all'epoca il signor Castelli ingegnere strappato ai conti ora che cosa succede che Castelli tiene fermo questa pratica la blocca e non la trasmette agli americani segno di subalternità totale perché almeno trasmettere era un suo obbligo giuridico e non avrebbe comportato da parte sua nessuna responsabilità ma tant'è insomma questi sono i nostri vertici politici si alzano alcuni parlamentari della sinistra dicono guardate questo è un atteggiamento eversivo non è possibile che un ministro della giustizia possa bloccare un iter processuale per un fatto così delicato quale il sequestro di persone nel nostro territorio nazionale ai danni di uno straniero cosa succede che cambia il governo anche se il ministro della giustizia diciamo non so scelto con quale criterio con grande criterio non è ingegnere e comunque io credo che al di là del giudizio sulla persona che non esprimo chi l'ha scelto non ha avuto grande stima per la giustizia e allora che cosa succede che i magistrati dicono ah finalmente c'è il centro-sinistra adesso ci darà trasmetterà ripetono questa richiesta e non c'è silenzio non si fa nulla a un certo punto i magistrati di Milano chiedono alle persone che avevano fatto le interpellanze parlamentari contro il ministro Castelli di intervenire e di fare qualche interpellanzina anche loro contro non trovano nessuno non solo ma viene opposto un segreto politico militare di cui non si capisce ancora chi l'ha opposto quando è stato opposto perché è stato opposto e si fa un processo si fa una memoria contro i magistrati di Milano davanti alla corte costituzionale in cui si accusano i magistrati di Milano di una serie di nefandezze che non hanno mai commesso ad opera dell'avvocatura dello Stato ora vedete tutto questo sta a significare che dentro i grandi equilibri mondiali mondiali non è cambiato nulla che purtroppo questo paese ancora non è libero e allora è che è possibile è dato alle forze politiche di nascondere la verità su fatti criminosi gravissimi tornando adesso e attualizzando alle vicende io credo credo che per quanto riguarda il magistrato di Milano voi sapete che è stato al centro di queste richieste di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche c'è una norma che peraltro non esiste in paesi europei secondo la quale non è possibile sottoporre a intercettazioni telefoniche a un parlamentare senza prima dargli avviso ma voi capite che diciamo la cosa diventa sì ridicola ma non è possibile neanche utilizzare le dichiarazioni che Rina mettiamo abbia avuto con un esponente non è così difficile pensiamo a quello che succede a Vasa Vasa a Totò Vasa Vasa insomma pieno di problemi giudiziari con un esponente di mafia anche qui se uno degli interlocutori è un esponente parlamentare deve è il Parlamento che deve autorizzare l'utilizzabilità di queste intercettazioni sia nei confronti degli indagati e sia nei confronti dei parlamentari ovviamente la dichiarazione di utilizzabilità è una e pare per tutti a questo punto succede che la procura della Repubblica chiede l'utilizzabilità di queste intercettazioni tramite il GIP al Parlamento il GIP è la Forleo la quale inserisce in questa richiesta una esplicita accusa di concorso negli stessi fatti attribuiti agli indagati che sono consorte una consorteria in realtà perché c'è di tutto ci sono rampanti immobiliaristi i furbetti del quartierino e così via cioè Gentaglia che sta facendo la scalata a due banche e al Corriere della Sera con danaro di cui nessuno capisce come si siano mai appropriati e allora che cosa succede che invece di chiedere semplicemente come ha fatto la procura di trasmettere la richiesta inserisce i nomi di Fassino D'Alema e basta e un altro pure si un uomo viene indicato la torre e la torre viene indicato come uomo di D'Alema e inserisce questi nomi cosa che lei non doveva fare e che danneggia tutto l'iter procedurale perché si scatena una polemica su un fatto che non era dato fare al GIP perché l'iniziativa penale è del pubblico ministero evidentemente il pubblico ministero per poter rendere più facile l'iter sapendo che poi le indagini avrebbero potuto portare a incriminare politici se ci fossero stati degli elementi ulteriori non aveva fatto il nome di questi politici non li aveva iscritti nel registro degli indagati e non poteva farlo certamente il GIP questa situazione questa forzatura è costata una serie di polemiche e alla fine l'autorizzazione è stata concessa dentro uno scontro anche di opinione pubblica evidentemente qualcosa contiamo ancora ed è stata data tranne che per l'onorevole D'Alema il ministro degli esteri perché all'epoca era parlamentare europeo ma l'Europa però non conosce una garanzia come questa non si sa bene come ne uscirà anche se recentemente la corte costituzionale ha affermato che non c'è bisogno dell'autorizzazione ma è che è sufficiente che se non faceva parte del Parlamento che si può procedere indipendentemente da qualsiasi autorizzazione dunque questa è stata la vicenda invece di De Magistris è leggermente diversa De Magistris ha messo le mani su un coacervo di illegalità terrificante lo hanno portato a loge massoniche a San Marino a riciclaggi a collusioni con la politica e ancora una volta la politica invece di reagire in maniera trasparente cioè lasciando comunque il magistrato indagare e pretendendo attraverso i propri difensori che il magistrato osservasse le regole e avendo a disposizione tutta una serie di reclami giudiziari Tribunale della Libertà e la Corte di Cassazione per aggredire atti illegittimi che pure ci sono stati tanto che è già intervenuto il Tribunale della Libertà per annullare alcuni atti ma si tratta di attività che si definiscono endoprocessuali che appartengono al processo non possono uscire dal processo nessuno può approfittare di un errore procedurale per mandare via un magistrato per dare il processo nelle mani di un altro magistrato più comodo e nel fare in modo di bloccare le indagini non è dato alla politica fare questo non è da paese civile avere una classe politica che fa questo che intimidisce il magistrato e d'altra parte vedete devo dire noi abbiamo assistito cinque anni di governo di centrodestra che ha fatto della giustizia un autentico sopruso che ha cancellato lo stato di diritto che ha voluto eliminare il diritto è stato uguale per tutti che è un principio fondamentale di uno stato di diritto non c'è stato è stato abolito il processo il processo per tutti i fatti di finanza è stato neutralizzato i falsi in bilancio e così via è stato neutralizzato completamente si sono avute prescrizioni perché è stato abbreviato il termine di prescrizione perché un reato si estingue oramai in un termine assai inferiore alla durata normale di un processo e dunque tutto questo è avvenuto in cinque anni di governo del centrodestra è stata una cosa estremamente grave che il governo di centrosinistra abbia quale primo atto non dico la nomina del ministro della giustizia e la persona di Mastella ma parlo dell'indulto e potremo parlare per ora di questo indulto grazie ragazzi a me mi pare che si si possa concludere qua la serata voi che dite no queste sono sante parole e quindi io le prendo come chiusura definitiva della serata io ringrazio i partecipanti Paolo Bolognesi Riccardo Bocca e il giudice Libero Mancuso grazie mille a tutti quanti voi ciao una macchina mi sono svegliato oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 buona mattina mi sono svegliato e ho provato l'impassor oh mani ciao oh